Benvenuto nella mia Academy, io sono Roberto Santoli, consulente e formatore di marketing. Voglio presentarti la mia offerta formativa. Andiamo per cui nel desktop, andiamo nella mia Academy, academy.corsimarchi.net, la sezione proprio relativa alla formazione, diciamo il mio percorso formativo, della sito corsimarchi.net che a breve sarà online. Per cui, questa è l'offerta, 1, 3 o 10 ore di consulenza o formazione personalizzata, one to one, per cui io e te, oppure con il tuo team, per cui il tuo gruppo di lavoro, dipende da cosa alla fine mi richiederai dopo il pagamento. Avrai l'intero catalogo dei corsi di marketing, che puoi vedere, diciamo, nel catalogo qui in basso. Attualmente sono otto corsi, ma tu avrai questi otto corsi, nonché tutti gli altri che andrò a pubblicare nell'arco del tempo, per cui l'intero catalogo io intendo i corsi attuali e quelli futuri. L'accesso per sempre alla community, che è attualmente su Facebook, ma credo che poi ci sposteremo anche su Telegram e altri servizi, sia di messaging marketing che di social. Per cui, via anche le diverse schede prodotto dei miei corsi, per cui via il curriculum, anche gli aggiornamenti, io aggiorno quasi mensilmente tutti i miei corsi, e anche, diciamo, le diverse lezioni, le domande, cosa mi dicono i miei studenti, eccetera, per ogni, diciamo, per ogni, per ogni corso. Puoi per cui anche andare nelle domande frequenti, io ti lascio regolare la fattura, sono, diciamo, un consulente formatore con partite di IVA, ti chiederò dei dati successivi all'acquisto, perché si acquista, diciamo, con Paypal, per cui puoi avere il pagamento sicuro con Paypal, oppure con Paypal tramite, diciamo, la tua carta di credito, e poi, dopo l'acquisto, ti chiederò dei dati per la fatturazione, e ti invierò tutti i link di accesso a diversi corsi e alla community. Come si svolgerà la nostra consulenza? La consulenza si svolgerà attraverso un servizio di videoconferenza, sarà una, diciamo, una consulenza privata, per cui solo io e te, oppure, come ti ho detto, con il tuo gruppo di lavoro, il tuo team, o c'è di tuoi colleghi, non ci sono, diciamo, dei limiti in questo. Sia per uno dei consulenza, oppure per gli altri pacchetti con 3 o 10 ore, ci sono delle, diciamo, le puoi utilizzate in diverso tipo, per cui puoi, ad esempio, per 3 o 10 ore, distribuire le ore su diversi giorni, per un massimo di 3 mesi, per cui, ad esempio, acquisti a gennaio 2023, e poi fino, diciamo, ad aprile puoi sfruttare le 3 o le 10 ore. Per cui puoi, diciamo, avere anche il tempo di frequentare i corsi, e poi di, man mano, chiedermi le consulenze o formazione. Per cui, sono una consulenza, ad esempio, su 2 progetti, informazione, se vuoi, diciamo, anche sui 3 o 10 ore, ad esempio, potresti intenderli come un corso di 3 ore personalizzato, 10 ore personalizzato, un corso, oppure una consulenza tra corso e formazione. Per cui non c'è, diciamo, un limite su ciò che possiamo creare assieme. Per cui, posso fare, diciamo, una consulenza di 3 o 10 ore su 2 progetti, oppure 3 o 10 ore di formazione. oppure mixare, diciamo, le due, consulenza e formazione. Per cui hai un'offerta, questo 199 euro, fino a dicembre, fino al 31 dicembre 2022, poi da gennaio andrà a 2,99, così aumenteranno anche gli altri prezzi, un'ora di consulenza o formazione individuale o di gruppo, e in regalo l'intero catalogo dei corsi presenti e futuri, e anche l'accesso per sempre alla nostra community, con i webinar di gruppo mensile. Per cui, all'interno della community, ogni mese ci riuniamo tra chi è scritto, diciamo, alla community, per cui chi, diciamo, ha acquistato una mia consulenza o formazione personalizzata, e vediamo un pochettino, ci confrontiamo tra noi e vediamo anche come vanno i progetti, come, diciamo, dipende anche dalla tipologia, diciamo, se sei un professionista, sei un titolo di un'azienda, un consulente di marketing di un'azienda, eccetera, ci confrontiamo tra noi, perché la community è dedicata a fare networking, per cui anche nuove collaborazioni, nuovi lavori, eccetera. Per cui, un'ora di consulenza, oppure tre ore di consulenza a 3,99, o dieci ore a 8,99. Questi sono, diciamo, ancora i prezzi del dicembre 2022, in cui sto registrando questo video introduttivo alla community. Aumenteranno un pochettino e anche, diciamo, queste tre ore di consulenza sempre dedicano in omaggio in questa, diciamo, in queste consulenze con i corsi e l'accesso alla community, oppure, se vuoi solo la formazione, per cui non ti interessa corsi a community, puoi acquistare solo la consulenza formazione personalizzata, per cui tre ore o dieci ore. Non ho messo quello d'onora, perché un'ora, diciamo, la ritengo più abbinabile solo ai corsi. Per cui, se ti serve, diciamo, solo la consulenza, puoi anche accedere solo alla consulenza, un prezzo che attualmente è un po' più, diciamo, basso per alcune cose, anche per altre sono un po' più alte. Però, dipende dalle tue esigenze. E per la consulenza, diciamo, singola, per cui senza i corsi, vi lascio anche un report dettagliato, rispetto, diciamo, a quella abbinata ai corsi. Per cui, un report dettagliato di ciò che ci diremo e anche di suggerimenti per sviluppi futuri. Ad esempio, tu puoi richiedermi, mi puoi anche contattare, mi servono più ore, per cui non acquisti, ad esempio, dieci ore di consulenza, ma vuoi un rapporto con me, diciamo, lavorativo più continuativo, per cui diversi mesi o anche anni, eccetera, ti faccio un rapporto preventivo e poi vediamo di lavorare assieme. Per cui, questi sono, diciamo, dei pacchetti che io ritengo molto utili, sia per chi vuole una formazione continuativa, sia per chi vuole solo, diciamo, continuativa anche con i corsi, eccetera, che sono per sempre, non dovrai poi rinnovare altre cose, per cui, ad esempio, acquistando tre ore di consulenza a 3,99, le tre ore di consulenza, l'intero catalogo dei corsi e l'accesso per sempre al gruppo, e nient'altro, cioè, non dovrai, diciamo, tra un anno di rinnovare altre ore, niente, per cui una tantum, e poi, dopo le tre ore di consulenza, potrai richiedermi altre ore di consulenza basandoli sui prezzi, diciamo, di tre ore di consulenza, potrai anche richiedermi la singola consulenza, eccetera, per cui la singola ore di consulenza, però, diciamo, dopo l'accesso, diciamo, alle altre consulenze. Per cui, utilizzo Fresh Learn come sistema di educazione dei corsi che ha sia un'app Android che un'app iOS e poi vi è anche una piccola sezione di blog che ho all'interno dell'Academy, non mi manco, ma ho anche altri blog e altre risorse che poi ti proposto all'interno del gruppo. Per cui, vaglia per bene, diciamo, tutta la mia proposta formativa, vedi anche le caratteristiche di diversi corsi, ad esempio, qui ho dei corsi di social media marketing, per cui Facebook Marketing nelle sue edizioni 2022, ma adesso, diciamo, l'aggiorno ulteriormente e sarà l'edizione 2023. Instagram Local Marketing, che è un piccolo corso che ho ritratto da un webinar di alcuni anni fa, ma che ha ancora validità come tattiche strumenti per attività locali che sono presenti su Instagram e vogliono migliorarsi. Fresh Learn riguarda proprio come creare una community con Fresh Learn, l'email marketing con MailChimp, ma sto per caricare anche i corsi di Mail Lite e di Sendinblue, per cui ci saranno altri corsi di email marketing relativi a determinati servizi, i corsi relativi a WordPress, per cui il nuovo corso WordPress uscirà a gennaio, il nuovo corso WordPress base avanzato, qui vi sono invece i corsi per il plugin di e-commerce, e quello per il page builder Elementor Free Pro. Abbiamo poi una tematica Google Analytics in Matom Analytics e un corso, in questo caso, del 2021, ma anche qui sto per, ho pianificato l'iniziazione del 2023 del nuovo corso di Local Marketing con Google Business Profile e le Ads Dinamiche, per cui hai otto corsi attualmente nel momento in cui sto registrando questo video introduttivo e poi ce ne saranno tanti altri, almeno, diciamo, quasi, non dico il doppio, ma quasi almeno la metà ulteriori, per cui saranno 12, 14, credo, in tutto il 2023 di nuovi corsi, per cui credo che a un prezzo bassissimo avrai, diciamo, almeno per quanto riguarda l'ore di consulenza, un prezzo di 199 attualmente, ma anche a 2,99 credo che sia pochissimo come prezzo per quanto riguarda una consulenza più un intero catalogo e l'accesso per sempre al Comune di TGV sia un po' più bassissimo. I miei colleghi di lavoratittura diciamo, dicono, sei troppo basso di prezzo, dovresti proporre almeno l'ore di consulenza con un intero catalogo a 3,99 eccetera, come prezzo base, ma io, a me piace, diciamo, un rapporto iniziale, diciamo, anche un pagamento basso, però poi cercare di portare a me avanti un rapporto di formazione e consulenza continuativa nel tempo. Per cui, mi mantengo basso con i prezzi, ma cerco sempre di dare la massima disponibilità e qualità nella mia consulenza e formazione. Per cui, ritorno un po' nella mia webcam, ti saluto, spero che diventerai mio studente ma anche un mio cliente se, diciamo, vuoi dare solo la formazione o la consulenza personalizzata. Grazie e buona formazione a tutti. Grazie